E salve a tutti, io sono Frost e bentornati sul canale di Brainstain Games. Oggi siamo qui per provare il gioco del mese offertoci dal Playstation Plus, che è Counter Spy. Ora, iniziamo. Tempo fa, in pieno della guerra fredda, due potenze rivali si sfidarono in un'epica corso allo spazio, sviluppando i missili atomici più grossi, appuntiti e devastanti della storia. Gli stati imperialisti contro la Repubblica Socialista, nemici giurati determinati a diventare la prima superpotenza e lanciare una testata nucleare sulla luna. BAM, continuiamo. Agente conferma di aver raggiunto a Tongrad 13. Confermato. Sto trasmettendo oltre la cortina di farro. Ecco perché non riesco mai a prendermi l'alcanza. Tiene nascosti piena... Quale supporto avrò dall'agenzia? Ok, possiamo iniziare. Bene, suggeriamo installare l'area degli esplosivi in fiamme. Ma questo dovresti già sapere, no? Ok, allora, non ho mai giocato a questo gioco ragazzi, quindi proviamolo assieme. Uh, carina la grafica. Da qualche parte oltre la cortina di farro. Ok, siamo in Russia. Movimento premix per saltare. Ok, entriamo. Prometti l'angolo per porta e condotti. Ok, interessante. Uh, è davvero carina la grafica. Mi piace. Prima ricerca per riparti dietro gli oggetti. Uh, mentre se al riparo muovi la lievita destra per prendere la mira. Senza sporgerti. Armi da fuoco. Headshot, bish. Rimando per caricare l'arma. Uh, che carina. Uh, devono esserci i piani segreti sul programma del computer. Ok, questo è il computer. Sì. Piano segreto. Piani lancio trovato. Bene, 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 bene. Ottimo, lavora gente, ruba i piani. E bla 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 bla. Ok, uh. C'è una leva. Eh, c'è una leva. C'è una piana, l'ho visto. Interregis. Venga, vuoi sei armadietti. Ah, quando la mia salute è bassa. Ah, non è, non è basso. Ok. Andiamo avanti. Oh, 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 oh. Primi leggermente la levetta sinistra. Ok. E poi quadrato. Tan 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 tan. What the? Mi piace davvero troppo la, la grafica. Questo è un altro computer? Sì. Bene. Piani lancio trovato. Buono, buono. Andiamo avanti. Uh. Oh, 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 oh. Calma, calma, calma. Il nemico sta usando il radio per montare il Defcom. Andiamo alla prima. Va bene. What the? Preso. Ok, fai attenzione agli eventi del Defcom. Ok. Andiamo su. Uh. Cassaforte per piazzare le can... Oh, la madonna. Uh. Perfetto. È molto intuitivo come... Come titolo possiamo dire. Uh, soldi. Bene. Andiamo di qua. Uh. Uh. Ah, una telecamera. Oh, 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 oh. Qualcazzo. Ma che figata. Oh, oh. C'era... Ah, potevo mettermi qua. Ok. Un altro computer. No. Scusate. Andiamo. Oh, oh. Non sparare mai agli ufficiali. Una volta rimasti da soli si renderanno. Io ti avviso. Oh. Giù. Sta giù. Perfetto, arrivederci. Usa gli ascensori per esplorare nuove aree o ignorali procedendo verso il tuo obiettivo principale. Uh. Vabbè, proviamo ad andare più a vedere. Non si sa mai. Andiamo giù. Tan tan tan. Oh, oh. Stavo scher... Combattimento. Prima di quando si trovi di fronte ad un amico. Oh, la madonna. Va bene. Va bene. Oh. Oh, 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 oh. Cerchio. Oh, porco. Ok. Uh. Andiamo. Siamo in Russia o nell'Unione Sovietica? Caco. Ah, posso ucciderla anche? Oh, cacchio. Cerchio. Oh. Oh. C'è presa. Uh. Ah, potevo nascondermi. Ok. Un'altra. Ehm. Non so come dirvi, però è... A me sta piacendo... Cioè, è da pochissimo che ci sto giocando. Nel senso, l'ho provato con voi qui. Mi sta piacendo un sacco. Apriamolo qui. Torniamo su, quindi. Ah, ok. Entriamo di qui. Uh. Uh. Apriamo. Oh, oh, oh. Gli esplode qualcosa. Oh. Oh. Uh. C'è qualcuno? Aha. Crepaci male. Perfetto. Qua sotto c'è qualcosa. Oh, 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 oh. Oh. Perfetto. Crecchiamo. Uh, un altro computer, buono. E va, abbiamo tutti i piani. Uh. Una grata. Tan 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 tan. Uh. Ok, si scende, si scende. Si scende ancora. Buono, buono, buono. Tap, 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 tap. Apriamo. Mm. Oh. Pianino, non sa mai che qua ci sia qualcuno. No, c'è una cassa forte. Bene. Uff. Bene, bene, bene. Ok, torniamo indietro, quindi. Uh, poteva, poteva rotolare dentro, però vabbè. Ok. Ok. E ok. Ok, perfetto. Si, torniamo fuori. Hop. 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 Non c'è nessuna stamina, non siamo su Dark Soul, grazie a Dio. Ok. Ben fatto. Ora vai, cosa... Ma non metti il sistema. Mm. Mm. Sono un pochino, un po' preoccupatino. Eh, uff. Non mi avete visto? Ahia, tap. Ma non ho visto il come. Oh, 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 oh. Ahia. Ah, ogni volta che crepo aumenta il Def Com? Ah. Carina qualcosa. Cioè, oddio, carina. Non è molto... Ah, ok. Mi avranno sentito di sicuro. Crepaci male. Eh, però... Io sono sopra e lui è sotto. Oh, 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 oh. No, allora, andiamo di qua. Stavamo facendo tutte le cose in stealth, no? Deve uscire il mio lato... Guerra... Guerra Fondaio. Uh. Toff. Ah, ok. Mi dovevo mettere lì e... No, 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 no. Mai nella vita. Ah, ok. Ok. Oh, 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 oh. E' una. Uh, eccoci. Perfetto. Def Con di livello 3. Missione completata. Ah, buona. Ok. Quindi abbiamo completato la prima missione. Ah, benvenuto su counter. Benvenuto al counter, scusate. Piani di lancio. Ma è andata piuttosto bene, credo. Sì, è andato bene. Piani di lancio. Oh, la madonna, tutti. Perfetto. Ok. Ok. Vabbè, facciamo una cosa. Facciamo una missione per volta, ragazzi. Quindi, io vi ho presentato questo titolo, appunto perché lo volevo provare con voi. Mi sta piacendo, ditemi anche voi cosa ne pensate, che se caso continueremo assieme. E nulla, ragazzi. Spero vi sia piaciuto il video. Quindi, se volete lasciate un mi piace, un commento, che cerchiamo di essere il più possibile attivi. Sia nel rispondervi sia su YouTube che su Facebook. E nulla. Noi ci vediamo al prossimo video. Speriamo in una nuova missione su Counter Spy. E... Bella!